E' l'1.04, buonasera, questa è l'ultima edizione del telegiornale, cominciamo dall'Ucraina. Ufficialmente, e lo ripetono a Kiev, la controffensiva su larga scala non è ancora scattata, ma ci sono forti combattimenti in diverse zone, soprattutto nella regione di Daniesk. Gli uomini di Kiev stanno puntando sulla zona di Liman, su Bakhmut, Adivka e Marinka. Le prime due sono a nord della città di Daniesk e le altre a sud. I russi stanno rispondendo da entrambe le parti, ci sono vittime. Dall'attacco della regione occupata di Zaporizia, di cui si era parlato la scorsa notte, invece hanno parlato soprattutto le fonti di Mosca, a cominciare dal ministro della difesa Shoigu, che ha detto che gli attacchi degli ucraini sono stati respinti. In queste ore girano comunque nuove voci su movimenti ucraini verso quella direzione. Però Kiev mantiene la consegna del silenzio. Kherson, allagata dal crollo della diga, oggi lo vedete, è arrivato Zelensky. Anche durante la visita e soprattutto durante i soccorsi sono arrivati colpi d'artiglieria dall'altra parte del fiube, dove, eccolo qui, è arrivato dopo tre giorni il rappresentante delle autorità russe, che è andato a incontrare la popolazione. Quasi un rimpallo di immagini, come è il rimpallo di responsabilità che da tre giorni Mosca e Kiev si stanno girando per quello che riguarda la responsabilità del crollo della diga. Adesso andiamo in Lussemburgo, dove oggi, dopo lunghe riunioni, si è arrivati ad un accordo. I ministri degli interni dell'Unione Europea hanno trovato il modo di siglare un patto sulla gestione delle migrazioni. Vediamo cosa contiene questo documento. L'accordo raggiunto poche ore fa adesso verrà negoziato con il Parlamento Europeo. A Lussemburgo tutti favorevoli, tranne Polonia e Ungheria, mentre si sono assenuti Bulgaria, Malta, Lituania e Slovacchia. Scongiurata l'ipotesi di pagare i paesi d'arrivo dei migranti irregolari per tenerli entro i propri confini, piuttosto si può parlare di spinta italiana alla creazione di un nuovo fondo europeo per i paesi terzi e per i flussi da regolare alle frontiere, frontiere che verranno potenziate con loro i tempi di applicazione delle regole legate anche alle clausole di revisione del sistema accoglienza. Il regolamento, che verrà discusso a Strasburgo, mira a migliorare le regole vigenti su tutta la carta di Dublino. A riguardo si mira a stabilire a chi spetteranno le procedure d'asilo, puntando su un meccanismo di solidarietà che, come nel caso italiano, sostenga gli stati più esposti ai flussi migratori. In fatto di paesi terzi e sicuri, questi saranno indicati dagli stessi stati membri, in base alle intenzioni dei richiedenti asilo. Per quanto concerne i ricollocamenti, servirà l'obbligo di solidarietà con i paesi in difficoltà. La compensazione per ogni migrante non trasferito sarà di 20.000 euro. Restano però in vigore le cosiddette regole di Dublino, che prevedono la permanenza dei migranti nel paese dove sono sbarcati per 24 mesi, un anno invece per quelli soccorsi in mare. Questa, per la commissaria Johansson, è la conferma che il lavoro di gruppo paga e renderà l'Unione ancora più forte. Lo sa anche il cancelliere tedesco Scholz, che ha Giorgia Meloni, ripete una soluzione comune verrà trovata, il fenomeno va gestito e chi non ha diritto a rimanere nei paesi comunitari deve poter tornare indietro. Questo perché, dice il ministro Piantedosi, l'Italia, ad esempio, non sarà mai più il centro di raccolta migranti, per conto dell'Unione Europea, come è stata per nove lunghi anni. In Francia, anzi, una mattinata di fresco al parco con mamme, bambini e nonni si è trasformata in una giornata di terrore. Abdelmasin Anun, 31 anni, siriano, da circa un mese frequentava le Jardins d'Europe, il parco dove appunto genitori e nonni portano i piccoli. E ha preso un coltello e ha accoltellato quattro di questi bambini, tra i due e i tre anni. Era solito, hanno raccontato testimoni, andare lì tutti i giorni e sedere su una panchina senza parlare, fino a che questa mattina, invece, si è scagliato contro i bambini, urlando il nome di Gesù. Ne ha feriti, dicevamo, gravemente quattro, prima di essere fermato dalla polizia, che ha ferito anche un uovo che aveva inseguito l'assalitore nel tentativo di bloccarlo. Anun era in Francia da otto mesi, gli era stato negato l'asilo che invece aveva ricevuto in Svezia, dove aveva vissuto per diversi anni, aveva avuto una relazione con una donna e una bambina di tre anni. Anun, cristiano, siriano, non risulta aver mai avuto legami con ambienti terroristici e neanche con appunto il jihadismo islamico. Adesso parliamo del Papa, sono buone le sue condizioni, il decorso post-operatorio procede bene, ma dovrà rimanere in convalescenza per qualche giorno in più del previsto. Molto probabilmente trascorrerà questi giorni nella stanza del decimo piano del Policlinico Gemelli, dove oggi gli sono arrivate anche le lettere e gli auguri dei piccoli ricoverati all'ospedale per i bambini, appunto pediatrico Bambino Gesù di Roma. Tutto come da normale decorso post-operatorio, nessuna variazione o complicazione. Non si discostano dai bollettini ufficiali diffusi dalla Santa Sede le indiscrezioni che arrivano da fonti mediche interne al Gemelli, comunicazioni scarne senza possibilità di fraintendimento. Bergoglio si è alimentato con una dieta idrica, i parametri emodinamici e respiratori sono stabili. Già dalla mattina l'ufficio stampa del Pontefice aveva così descritto la prima notte di Bergoglio dopo l'operazione all'intestino, durata tre ore in anestesia generale per scongiurare occlusioni. Papa Francesco, che è vigile, in grado di respirare autonomamente, ha riposato in modo prolungato la notte e trascorsa bene, tranquilla. Insomma, le sue condizioni dopo gli esami di routine vengono definite buone, ma serviranno, specificano dal Vaticano, ancora giorni di riposo assoluto. Oggi Papa Francesco ha ricevuto l'eucaristia e parlato al telefono con la madre di un bimbo, da lui battezzato lo scorso marzo nel reparto di oncologia pediatrica. Su quanti sia, nei giorni che passerà negli appartamenti al decimo piano del Policlinico Romano, nessuno ha ancora certezza. Quel che è sicuro è che tutti i suoi appuntamenti, dopo la decisione di intervenire in laparotomia per un laparocele incarcerato, sono stati tutti annullati fino al 18 giugno. Tutti, tranne il meeting mondiale della Fraternità, che si svolgerà sabato prossimo in Piazza San Pietro. Nella migliore delle ipotesi, Bergoglio inviera un videomessaggio. Stamattina Papa Francesco hanno dedicato un pensiero anche ai bambini ricoverati al Bambin Gesù. Non avere paura, noi siamo con te, si legge nel disegno pubblicato sui social. Andiamo a Verona. Le violenze dei cinque poliziotti che sono stati arrestati sugli uomini che erano stati in stato di fermo, sono state registrate dalle telecamere che erano in quella stanza dove appunto venivano portate le persone fermate per i controlli, sono immagini che sono agli atti dell'inchiesta. Cosa accadeva all'interno della questura di Verona? Violenze denunciate dalle vittime e i magistrati? Adesso lo mostrano anche alcuni frame dei video finiti nell'inchiesta della Procura veronese su presunte torture e maltrattamenti avvenuti tra luglio 2022 e marzo 2023 in almeno sette occasioni. Cinque poliziotti arrestati e altri 17 indagati. I fotogrammi di mesi di indagini raccontano le diverse fasi delle vessazioni già descritti a parole dalle vittime nell'ordinanza. Le telecamere di sorveglianza sono puntate sulla stanza della questura. Il cosiddetto acquario dove venivano portate le persone fermate durante i controlli per mesi hanno ripreso e registrato i maltrattamenti di alcuni agenti nei confronti dei fermati uno di questi è Nicola Edaju, cittadino romeno contro il quale un agente prima gli spruzza lo spray al peperoncino poi lo costringe a urinare sul pavimento e infine lo getta a terra per pulire trascinandolo come fosse uno straccio. Lo stesso poliziotto non sapendo di essere intercettato si vantava al cellulare con la fidanzata ho caricato una stecca, amò, bam, lui chiude gli occhi, di sasso per terra, è andato a finire, è rimasto a terra. Nell'inchiesta i magistrati veronesi parlano di modus operandi consolidato che non risparmiava nessuna vittima. Nel caso di questo agente il PM ha configurato anche il reato di tortura e l'accusa di lesioni sempre per lo stesso poliziotto. Tra i reati ipotizzati c'è anche il peculato perché avrebbe sottratto con la forza una quantità di ascici a uno spacciatore. Mercoledì prossimo i magistrati della procura di Verona hanno fissato gli interrogatori di garanzia dei cinque poliziotti arrestati, un ispettore e quattro agenti sono ai domiciliari. Sant'Antimo in provincia di Napoli, la città di Giulia Tramontano, la ragazza che è stata uccisa dal suo convivente a Senago. Dicevamo Sant'Antimo è stata scossa oggi, proprio nel giorno della fiaccolata in memoria di Giulia, da un altro brutale duplice omicidio avvenuto in ambito familiare. Un uomo di 29 anni e la cognata di 24 sono stati uccisi a colpi di pistola dal suocero di entrambi, Raffaele Cagliazzo, il quale sospettava che i due che erano sposati con i suoi figli avessero una relazione extraconiugale. Dopo averli raggiunti ha sparato prima al genero in mezzo alla strada, poi alla nuora che si trovava in casa con i due figli. Ricercato poi dai carabinieri, il 44 anni si è costituito dopo qualche ora ed è stato arrestato. Adesso parliamo di calcio e cominciamo da una notizia che è una prima volta, perché la nazionale di calcio Under 20 ha battuto la Corea del Sud e si è qualificata per la finale dei mondiali che si stanno giocando in Argentina, finale che giocherà contro l'Uruguay. Intanto cresce la febbre per la finale di Champions League che vede appunto protagonista l'Inter sabato sera a Istanbul. Inter e Manchester City hanno raggiunto la Turchia in serata per raggiungere poi le sedi dei rispettivi ritiri. Nell'ultimo allenamento, prima della partenza, Simone Inzaghi ha potuto recuperare due infortunati, l'attaccante Corea e il centrocampista Mkhitaryan. Il tecnico nero-azzurro potrà quindi contare sulla rosa al completo. Domani allenamento di rifinitura sul terreno dello stadio Ataturk, dove appunto sabato l'Inter giocherà la sesta finale Champions della sua storia. 1.14.50, ci fermiamo qui domattina alle 7. Torna l'informazione, arrivederci, grazie, buonanotte. Grazie.